Voi direte che c'entra Anna Karenina di Tolstoi con il personaggio di oggi? Eppure c'entra. Parleremo di uno studioso, di un meridionalista, di un politico, di un giornalista, di un professore universitario che quando è scomparso quest'anno, tra l'altro, ha lasciato un enorme vuoto, subito dopo la sigla. Giuseppe Galasso nasce il 19 novembre del 1929, è figlio di un artigiano, di un vetraio. La famiglia non se la passa proprio a bene. Lui farà davvero tutti i mestieri possibili, persino lo sguattero e, tra l'altro, resta orfano di madre nel 1941. La guerra è iniziata da poco, è il secondo conflitto mondiale. Lui davvero fa mille mestieri per aiutare la famiglia, ma ha un amore davvero viscerale, enorme, incommensurabile per la lettura. Prende l'abilitazione magistrale a 17 anni e il 1946 la prende al Villari, ma poi prenderà anche la licenza liceale a Lumberto da privatista. Si laurea immediatamente in storia medievale, si laureerà anche poi successivamente in lettere e viene ammesso come allievo presso l'Istituto di Studi Storici fondato da Benedetto Cruce. Nel 1963, quindi a 34 anni, ha finalmente la libera docenza, ma è nel 1966 che ottiene la cattedra verso l'Università Federico II in storia medievale e moderna. Tra l'altro presso la stessa Università Federico II diverrà poi preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dal 1972 al 1979 e insegnerà tra l'altro anche a Salerno, a Cagliari. Sono innumerevoli le cariche che avrà nella vita come studioso Giuseppe Galasso. È stato anche presidente della Società Napoletana di Storia Patria dal 1980, presidente della Biennale di Venezia, della Società Europea di Cultura e dal 1977 è stato socio dell'Accademia dei Lincei. Questa è soltanto la sua carriera accademica, ma Giuseppe Galasso è stato anche un politico. Ha militato nel Partito Repubblicano dal 1970 al 1993. In questi 23 anni ha sempre fatto parte del Consiglio Comunale di Napoli ed era stato anche investito per fare il sindaco di Napoli nel 1975, ma non riuscì a trovare la maggioranza. È stato anche eletto alla Camera dei Deputati in ben tre legislature per nove anni di seguito, dal 1983 al 1994. Tra l'altro tra il 1983 e il 1987 sotto la presidenza del Consiglio di Bettino Craxi fu sottosegretario ai beni culturali ed ambientali. In quel ruolo è stato autore di tanti provvedimenti e decreti chiamati Galassini che intendevano in qualche modo tutelare l'ambiente e il paesaggio italiano. Proprio su questo fronte si fece portatore di un'importante legge, quella dell'8 agosto del 1985, la cosiddetta legge Galasso. Con questo provvedimento legislativo veniva tutelato praticamente tutto il paesaggio italiano con vincoli ben precisi. Ma non finisce qui, dal 1988 al 1991 è sottosegretario per il Ministero dell'Intervento straordinario nel Mezzogiorno. Ma Giuseppe Galasso era anche un grande giornalista, ha collaborato con il Mattino di Napoli, con il Corriere della Sera, con la Stampa di Torino, con il Settimanale L'Espresso. Nel 2005 Giuseppe Galasso riceve un premio speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i suoi importanti studi storici. Galasso si spegne nella sua casa di Pozzuoli il 12 febbraio di quest'anno. Stava lavorando ad un importante testo di storia e di politica. Giuseppe Galasso non può essere racchiuso in un'etichetta precisa, non può essere giudicato soltanto per essere stato un accademico, quindi un professore universitario, né tantomeno soltanto per essere stato un politico, né tantomeno può essere giudicato per essere stato un giornalista. In realtà Giuseppe Galasso è stato uno studioso a tutto tondo, un'importante personalità che ha partecipato al dibattito culturale dell'Italia negli ultimi 30 anni. E proprio per questo motivo i suoi studenti, i suoi ex allievi, i suoi colleghi hanno organizzato per oggi e fino a mercoledì un importante convegno internazionale. Giuseppe Galasso storico. Questo importante congresso internazionale dedicato a Giuseppe Galasso sarà ospitato nella sede della Società di Storia Patria Napoletana al Maschio Angioino. L'appuntamento per quest'oggi pomeriggio è alle ore 15, primo tema, l'Italia una e diversa. L'appuntamento invece per domani mattina, martedì 20 novembre, un tema che è molto caro a Giuseppe Galasso. Il mezzogiorno è la storia d'Italia. Nel pomeriggio invece di domani, martedì 20 novembre, ancora un altro tema caro al professor Galasso, ossia l'Europa l'altra Europa. Ed ancora mercoledì 21 novembre, quarta e quinta sezione di appuntamenti e di incontri internazionali dedicati sempre a Galasso storico. Il titolo Liberalismo e Democrazia. Per parlare della bibliografia di Giuseppe Galasso ci vorrebbero ore e ore di registrazione. Qui mi limito soltanto a suggerirvi alcuni titoli, soprattutto per la sua caratteristica propensione al meridionalismo, allo studio di Napoli, a quello che è stata la storia di Napoli. Innanzitutto i saggi di filosofia e gli studi fatti su Benedetto Croce pubblicati dall'editore Adelfi. Ed ancora la tutela del paesaggio in Italia, 1983-2005. E poi veniamo, dicevo, ai titoli più squisitamente meridionalistici, più caratterizzanti, in qualche modo la sua particolare propensione allo studio sull'ex capitale del Mezzogiorno, ossia Napoli. Alla periferia dell'impero, il regno di Napoli nel periodo spagnolo, tra il XVI secolo e il XVIII secolo. L'incredibile e voluminosa opera dedicata alla storia del regno di Napoli, in sei volumi, dal 1266 al 1860. Napoli spagnola dopo Masaniello ed ancora il Mezzogiorno nella storia d'Italia. Passato e presente del meridionalismo, Mezzogiorno medievale e moderno. L'altra Europa per un'antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia. Ed infine il regno d'Italia, il Mezzogiorno angioino-aragonese, 1266-1492. Normalmente la nostra rubrica viene chiusa da un modo di dire, da un proverbio napoletano, da qualche citazione in versi della lingua napoletana. In questo caso voglio chiudere con questo ricordo, Anna Karenina di Tolstoi. Perché? Che cosa c'entra questo libro? Tra l'altro all'interno ci sono i miei appunti per delle domande. Perché? A chi erano rivolte? Nel 1992 ero all'inizio della mia carriera giornalistica, in realtà già da qualche anno, ma comunque avevo suggerito ad un editore di un settimanale napoletano di fare delle interviste sui personaggi più noti a Napoli e sui loro libri preferiti. Avevo sentito Giuseppe Galasso che mi disse il mio libro preferito è Anna Karenina di Tolstoi. Ovviamente io non ci messi sette giorni per leggere questo libro, perché come vedete è abbastanza lungo. Lui tra l'altro disse sono indeciso tra guerra e pace e Anna Karenina. Disse scegli tu. Io andai poi in libreria e scelsi questo libro, probabilmente perché era leggermente più corto a dir la verità, non me ne voglia, la memoria di Giuseppe Galasso. E poi ovviamente ci fu l'intervista allo studioso Galasso. Purtroppo questa intervista è andata perduta, non sono riuscito a ritrovarla. Sono andato comunque a salutare il professor Giuseppe Galasso quando è stata allestita la camera ardente al maschio angioino a Napoli. A domani!